quelle brave ragazze tre grandi amiche che chiacchierano in continuazione una quasi si addormenta l'altra mangia solo caramelle e l'altra l'altro serve alle altre due tutto questo mentre viaggiano in giro verso madrid e il nuovo programma televisivo di tv8 iniziato il 12 gennaio quelle brave ragazze le bimbe sono sandra milo 89 anni orietta berti 79 mara marionchi 81 che vanno in giro con un furoncino tutto rosa ad esplorare posti nuovi e usanze dei luoghi portando con loro la loro allegria e quella strafotenza che si ritrovano le ragazze si sfrenano in discoteca provano a fare dei tatuaggi volano in mongolfiera insomma si scatenano come mai hanno fatto finora e ne combinano di tutti i colori perché sarà uno delle avventure più belle della loro vita un'avventura da ricordare per sempre un'avventura da ricordare per sempre